Settembre è il termine ultimo per rivedere l'intera organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali in provincia di Salerno. Ieri pomeriggio la conferenza dei sindaci dell'ASL, presieduta da Sergio Annunziata, si è riunita per discutere del recente atto aziendale proposto dal manager squillante e decidere sul da farsi. Dalla discussione è emerso che il provvedimento va rivisto in più parti, ecco perché si è stabilito di predisporre un dossier che tratteggi lo stato attuale del sistema sanitario provinciale e le proposte dei sindaci per migliorarlo. Chiediamo, ha detto Annunziata, più attenzione per il sud della provincia, da troppo tempo penalizzato sia in termini di posti letto sia in termini di trasferimenti economici, quando invece avrebbe bisogno di maggiori riguardi, viste la sua tipicità territoriale e la consistenza della popolazione. Il dossier dunque dovrebbe essere concluso per settembre. Tra gli elementi che vanno rivisti c'è sicuramente la rete dell'emergenza e anche il ruolo dell'ospedale di Agropoli, che dice Annunziata, ha ottenuto un rinvio della questione solo grazie alle nostre pressioni. Poi lo sblocco del turnover, vari aggiustamenti qui e là in maniera unitaria e non campanilistica e infine l'adeguamento dell'atto aziendale ad un nuovo decreto 49. Al momento con un telegramma inviato sia al commissario della sanità in Campania, Caldoro, sia al manager squillante, si comunicherà la prossima predisposizione del dossier e si premerà per evitare nel frattempo penalizzazioni nel Salernitano. L'obiettivo dei sindaci è anche quello di risvegliare i consiglieri regionali a lungo assenti sulla questione sanità e da tempo in memoria ha continuato annunziata che non si convoca un consiglio regionale sull'argomento e a questo punto è necessario riaprire il dibattito e che venga riportata la voce dei territori. Insomma, per il momento anche la sanità è rimandata a settembre. Grazie a tutti.